Buongiorno, la parola dell'anno del 2023, almeno negli Stati Uniti, è encittification. Ne abbiamo parlato varie volte l'anno scorso, è una parola nata nel blog di Cory Doctorow, che tra l'altro è un account che vi consiglio di seguire su Mastodon, è un blogger abbastanza frizzante. Ho anche le prove, per giustificare questa volta le cazzate che dico durante la intro. Questo è un comunicato stampa dell'American Dialect Society, che è un po' l'accademia della crusca americana, no? E qui c'è il risultato di questa votazione che fanno ogni anno per eleggere le parole dell'anno in varie categorie. Ecco, la parola principale appunto è encittification e c'è anche un po' un riassuntino di cosa significa, perché nasce in un blog post appunto di Cory Doctorow, che l'ha usata per descrivere come le piattaforme digitali, ecco, diventano sempre peggio. Questo è un estratto del blog post di Doctorow e dice, ecco come le piattaforme muoiono. Prima fanno il bene dei propri utenti, poi abusano i propri utenti per fare il bene dei propri clienti business, infine abusano i clienti business per fare il bene di loro stessi e alla fine muoiono. Ecco, questo processo io lo chiamo encittification. Questo lo trovate su un ormai celeberrimo articolo sul blog di Cory Doctorow che si chiama Pluralistic. E questa invece è una dichiarazione del presidente di questa commissione che ha votato la parola, che si chiama Ben Zimmer e dice, encittification è tristemente appunto una parola che si adatta benissimo alle nostre vite online e come stanno diventando sempre più degradate. Da quando per la prima volta è apparsa sul blog di Cory Doctorow e su vari articoli, insomma, abbiamo avuto tutte le prove che questo è un neologismo assolutamente adatto e memorabile al contesto attuale. Quindi sì, siamo ufficialmente nell'era dell'encittification, tra l'altro proprio nei giorni scorsi era poi venuta fuori la notizia che anche un altro enorme servizio online come Amazon Prime Video sta aumentando i prezzi per non... dovete pagare di più se non volete le pubblicità in un processo naturalmente che potremmo tranquillamente includere anche lui in encittification. E se siete curiosi di sapere anche le altre parole dell'anno che ci riguardano, ce ne sono. Tra i candidati a parola dell'anno 2023 c'era anche stochastic parrot, anche questa nata in un famoso blog post che descrive il large language model e come praticamente copiano delle cose che non capiscono e quindi emettono testi che non comprendono. Quindi stochastic parrot che significa proprio pappagallo stochastico, no? Cioè un qualcosa che ripete in maniera statistica senza però conoscere il significato di quello che dice. Anche questa era nell'elenco delle possibili parole dell'anno. Vi dico altre cose che potrebbero interessarvi. Per esempio l'acronimo dell'anno è FAFO. Fuck around and find out. FAFO che significa in pratica vai a vedere e scoprirai che le cose ti vanno male. Provale e vedrai che vanno male. Quindi questo è FAFO. E poi ci sono anche parole legate all'intelligenza artificiale. C'è GPT, naturalmente, c'è Hallucination. Abbiamo parlato varie volte. Il processo di allucinazione, no? Quello che fa sì che un LLM appunto produca del testo che contiene delle cose vere ma delle cose chiamate appunto allucinazioni che sono totalmente inventate e non hanno nessun senso. LLM a sua volta è tra le parole dell'anno AI e anche Prompt Engineer. C'è anche un elenco di eufemismi dell'anno. Quello che ci interessa è Effective Altruism perché ne avevamo parlato l'anno scorso in relazione al licenziamento di Sam Altman dal board di Open AI. C'era di mezzo anche l'Effective Altruism. Mi piace la definizione che ne danno all'American Direct Society. È un movimento che a parole vuole fare il bene dell'umanità ma in realtà è una scusa per far spendere i soldi alla gente. Molto carino. Beh direi che insomma questa era l'introduzione di oggi. Siamo ufficialmente nell'era dell'incertification quindi volevo volevo un po' introdurre con queste cose frizzanti ma ora un po' di news da oggi. Allora mercoledì 10 gennaio voglio segnalarvi un paio di cose che ho trovato sul blog di GitHub e parto dalle GitHub Certifications che secondo me potrebbero interessare più di qualcuno di voi. Sono delle certificazioni come ci sono già in altri contesti, in altre fondazioni, quelle della CNCF e della Linux Foundation mi pare che siano quelle più note, più diffuse ma anche AWS, Microsoft eccetera. Ora ci sono anche le certificazioni ufficiali di GitHub e su questo blog post appunto si vengono presentate, c'è quindi un annuncio di questo programma GitHub Certification che era inizialmente disponibile soltanto per i dipendenti e i partner di GitHub e adesso invece è disponibile per tutti, generally available. Quindi da oggi potete andare sul sito della registrazione, registrarvi a GitHub e poi insomma iscrivervi a queste certification. Per esempio questa per chi sta guardando e vi ricordo che questo podcast si può anche guardare su YouTube e su Spotify, comunque questa è la pagina dove ci sono le vostre certifications e potete iscrivervi a ognuna, sono quattro, poi le vediamo un pochino meglio. Per esempio entrando in GitHub Actions vedi che il costo dell'esame è di 200 dollari, si può fare ovviamente la prenotazione dell'esame che avverrà con un tool online in una sessione che durerà circa due ore in cui per chi ha già familiarità con tool simili non potete far altro che guardare lo schermo e digitare sulla tastiera in pratica per superare questo esame e sarete assistiti da qualcuno di GitHub che controllerà anche che non variate. E al termine di questo esame se lo avete superato otterrete un badge, un badge su Credly. E quali sono le certificazioni disponibili da GitHub? Sono quattro dicevo quindi sono la Foundations, GitHub Foundations in pratica sono i concetti fondamentali della GitHub platform, quindi le core feature come il management del repository, i commit, il branching, le pull request, quindi merge e in generale il project management. Poi c'è la certificazione GitHub Actions, quindi la CICD pipeline, la gestione generale delle GitHub Actions e altre questioni che riguardano appunto Actions e l'Enterprise. Poi c'è Advanced Security che vuole insegnare e certificare la capacità di rendere sicuro il codice attraverso le feature di GitHub, è una certificazione specifica per GitHub Enterprise e in pratica riguarda il code scanning, il secret scanning, code QL, la dependency management e altre cose che riguardano i repository private. Infine c'è GitHub Administration che in pratica è una certificazione che vuole diciamo insegnare come mantenere in salute un ambiente GitHub, in salute sicuro, ecco un ambiente GitHub per i team e i progetti del team. Ci sono anche naturalmente delle guide allo studio, potete trovarli su dei repository GitHub appositi, insomma per studiare, prepararvi per questi esami e poi come dicevo questi esami porteranno se superati a dei badge credli che vi verranno elargiti in caso di superamento. Quindi pensateci ecco se siete interessati a queste nuove certificazioni a 200 dollari per esame ecco che tra l'altro potete anche ripetere se sbagliate, se non passate la prima volta avete la possibilità di ripeterlo ecco e poi se passate otterrete questa certificazione. Vi dicevo di un'altra news interessante è trovata sul blog di GitHub ed è questa, si intitola Our Move to Generate SDKs che ha come sottotitolo il software generato, quindi generato automaticamente, incontra quello creato a mano. Ma cosa significa questa news? È una mossa abbastanza epocale anche come viene definita dall'autore del blog Nick Floyd che parla di un cambiamento nel modo in cui GitHub crea i propri SDK, cioè gli SDK per le proprie API che si sposta da una generazione statica con un framework che si chiama Octokit a una generazione automatica, automatizzata con un tool che si chiama Kyoto, che è un tool creato in Microsoft. Tra l'altro qui su GitHub, proprio su Microsoft slash Kyoto trovate il repo di questo tool, che è un tool da command line che vi permette di generare un client per le API che avete descritto con OpenAPI via command line ed è esattamente quello che ha fatto GitHub. Quindi parla in questo blog post di come Octokit sia stato finora il centro della generazione degli SDK di GitHub, ma adesso man mano che il landscape tecnologico evolve hanno deciso di passare a questa modalità di generazione degli SDK automaticamente con Kyoto, in modo anche che la generazione e l'adattamento di questi SDK sia molto più veloce e inoltre che gli permette di concentrarsi su un nuovo efficio piuttosto che sulla creazione di codice che è già stato descritto. I primi due SDK generati in questo modo saranno quelli in Go e .NET, che anche questo segna diciamo secondo GitHub il suo commitment a una platea più ampia di sviluppatori e poi naturalmente la visione per il futuro che non comprende solamente la definizione delle API, ma una serie di novità che l'avere la possibilità di generare automaticamente le API gli sbloccherà, ecco perché potranno concentrarsi su nuove feature. Insomma, è stato interessante questo approccio, generare automaticamente le SDK e le API client a partire dalla definizione OpenAPI invece di generare il tutto a mano attraverso un software che si chiama chiota. E ora passiamo alle notizie brutte. Riprendo una notizia che avevamo dato l'anno scorso ormai, ma in realtà insomma qualche settimana fa, quella vulnerabilità scoperta nel protocollo SSH da un team di ricercatori chiamata Terrapin e su Ars Tecnica trovo questa news che si intitola milioni in milioni di server ancora non hanno patchato la vulnerabilità Terrapin. Insomma, descrive un po' intanto in apertura che cos'è Terrapin insomma e quindi vi ricordo è una vulnerabilità che consente agli attaccanti di alterare, corrompere il processo di handshake, quando le due parti client e server stanno negoziando la connessione per inserirsi e rendere meno sicura la connessione. Quindi quando ci si scambia le informazioni sui protocolli criptografici, ecco in quel momento si degradano le caratteristiche di sicurezza della connessione, a questo punto la connessione diventa meno sicura. L'attacco naturalmente è difficile da sfruttare perché richiede che gli attaccanti abbiano una posizione man in the middle, quindi siano per esempio nella stessa rete locale o comunque in grado di fingersi un attore della stessa rete e assumere l'identità di server o client e inoltre che le implementazioni di SSH supportino le modalità di cifratura Chacha20 o CBC con Encrypt and Mac. Quindi devono essere soddisfatti entrambi questi requisiti, ma da un rapporto di shadow server emerge che le implementazioni di SSH con questi protocolli criptografici sono circa il 77% di quelle globali e che la gran parte non sono ancora patchate per Terrapin. Quindi vedete questo mega rapporto, ci sono più di 3 milioni di server SSH non patchati negli Stati Uniti, più di un milione in Cina, un milione in Germania, 700 mila in Russia, insomma sono tantissimi. C'è anche l'Italia in questo schemino, l'Italia ne ha 71 mila circa, a quanto pare, quindi ci difendiamo molto bene. Insomma nonostante siano state pubblicate le CVE, siano state pubblicate le patch e gli alert di tutti i tipi siano stati dati da tutta la comunità, ancora la grande maggioranza dei server SSH non sono stati patchati. Questo non è un buon segno. Vi raccontavo qualche puntata fa anche per esempio che Log4j è una vulnerabilità Java ormai nota da un sacco di tempo, ma ancora tantissimi non l'hanno patchata e qui si sta ripresentando lo stesso scenario con una vulnerabilità nota, seppur magari difficile da sfruttare, ma comunque semplice da correggere perché basta installare una patch e questo ancora non viene fatto. Questo va a evidenziare insomma una criticità della supply chain software, insomma qualcosa su cui cerchiamo di sensibilizzare ormai tutti i giorni. Per chiudere altre notizie brutte parliamo di licenziamenti o di layoff come vengono chiamati negli Stati Uniti. Partiamo da Twitch perché Twitch sapete la piattaforma di streaming online di proprietà di Amazon sta per licenziare circa 500 persone, circa il 35% della sua forza lavoro, secondo un report di Bloomberg. E Twitch ha dato altri segni di difficoltà, non solo i licenziamenti, per esempio c'è un ritiro di Twitch dalla Corea del Sud a causa di tariffe di rete che sarebbero troppo elevate, che la costringevano a operare in perdita in quel paese. Ed è questa la seconda ondata di layoff così su larga scala di Twitch in meno di un anno, perché già l'anno scorso aveva tagliato 400 posti di lavoro a marzo, ecco, poco dopo le dimissioni del CEO storico di Twitch che era Emmett Shear. E la seconda notizia su layoff riguarda invece Unity. Su Unity sapete abbiamo speso varie parole l'anno scorso con tutta la vicenda del cambio di licensing del suo prodotto che aveva irritato i suoi sviluppatori, i suoi utenti e aveva creato un'andata di indignazione online e anche soprattutto uno switch di numerosi sviluppatori che sono passati da Unity ad altri motori di gioco in particolare motore open source Godot. Ebbene, torniamo ai layoff, Unity licenzierà il 25% circa dei propri dipendenti che sono circa 1800 posti di lavoro sparsi in tutto il mondo. Come parte, dice l'azienda, di un reset aziendale, un company reset per posizionarsi sul lungo periodo di crescita eccetera eccetera eccetera. Ma sappiamo insomma che dopo tutto quello che è successo l'anno scorso e dopo le dimissioni del CEO John Riccitiello le cose in azienda non vanno molto bene e infatti anche a questo ulteriore notizia gli stakeholder diciamo che non hanno reagito bene e le preoccupazioni della community di sviluppatori Unity insomma sono sempre crescenti. Naturalmente Unity rimane uno dei motori di gioco più popolari dell'industria soprattutto per i giochi indipendenti, per i giochi mobile e insomma la rottura della fiducia sembra essere sempre più concreta. Ma naturalmente la cosa che dispensa di più è per le 1800 persone che rimangono a casa come parte di questa ondata di licenziamenti in coda vi faccio vedere una cosa che secondo me è molto carina, cioè un videogioco che è passato appunto da Unity a Godot, per chi sta guardando faccio vedere il video di questo video gioco, di questo processo perché è un videogioco che si chiama Road to Vostok sviluppato da un singolo sviluppatore finlandese che lo stava sviluppando in Unity e ora sta facendo tutto un porting verso Godot e all'inizio di questo video era apparsa la scritta che questo porting gli aveva finora impegnato 615 ore di lavoro però se vedete a schermo il risultato è abbastanza impressionante cioè a quanto pare insomma Godot è in grado, Godot ricordo che è uno dei progetti open source più grandi del mondo con una community insomma molto attiva e fantastica e i risultati insomma sembrano più che apprezzabili ecco cioè la qualità estetica del gioco sembra non averne perso insomma dal passaggio da Unity a Godot e lo faccio vedere non solo come curiosità insomma ma anche per testimoniare la bontà del progetto Godot insomma che non è soltanto destinato a piccoli progettini 2D amatoriali insomma platform indipendenti ma anche a progetti un pochino più ambiziosi comunque questo è fatto da una singola persona quindi rimaniamo nello stato del piccolo progettino ma se vedete le sue capacità grafiche insomma pare che siamo ai livelli insomma di una produzione anche molto più grande e ora i link di oggi che vi do senza troppo commento il primo lo trovate su Rolling Stone la rivista Rolling Stone si intitola The Internet is about to get weird again ed è un articolo molto carino scritto da Anil Dash non ve lo spoilerò troppo è apparso il 30 dicembre io me l'ero letto durante le vacanze e ora ve lo suggerisco insomma parla del insomma è un po' un'opinione un commento sull'attuale stato di Internet insomma su quello che sta succedendo sulla perdita di potere dei grossi gatekeeper ecco di X, di Facebook e l'avvento di Mastodon ma soprattutto una presa di coscienza da parte degli utenti che possono davvero creare qualcosa di interessante su Internet, sul web con dei piccoli progetti anche che rendono un po' la cosa talmente talmente movimentata ecco che ricorda l'ondata dei primi siti e blog degli anni 2000 insomma e quindi ne parla un po' così, lo descrive un po' così ed è secondo me una lettura che consiglio ecco quindi The Internet is about to get weird again su Rolling Stone il secondo è Pocketbase, lo trovate su pocketbase.io, questa è un'assenazione che mi è arrivata dal mio CTO quindi grazie Paolo e consiglio a tutti di darci un'occhiatina è ancora un progetto nelle sue fasi preliminari in versione 0.20.5 però è un progettino che in un solo file, quindi questo come viene descritto vi fornisce un backend completo per un progetto, per un API che contiene anche un database real-time, un'autenticazione, un file storage insomma tutto questo dentro un file javascript io consiglio di darci un'occhiatina, insomma c'è anche un'interfaccia grafica molto simpatica e quindi pocketbase.io se volete dare un'occhiata a questo progetto io mi fermo qui, grazie per avermi ascoltato anche oggi vi butto lì anche un seguitemi su Mastodon vi ricordo sempre per qualche cagata che pubblico anche lì e basta, grazie di nuovo, ci vediamo alla prossima ciao